Ripresa quest'oggi degli allenamenti in casa Bitondo dopo alcuni giorni di sosta natalizia. Bitondo che si prepara al ritorno in campo il giorno dell'Epifania contro il Picerno. Siamo in compagnia di bomber Loris Palazzo, autore del gol del pareggio a Sorrento. Loris, facciamo appunto un passo indietro a quella che è stata la reazione del Bitondo a Sorrento. Una prova importante sul campo della capolista. Buonasera a tutti e buone feste passate innanzitutto. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione che ci ha premiato alla fine con il gol del pareggio e secondo me è stata una delle prestazioni più importanti sotto l'aspetto caratteriale di questo Bitondo quest'anno. Come valuti invece la tua prestazione a prescindere da quello che è stato l'importantissimo gol, il novantottesimo gol in carriera, quota 100 si avvicina tra l'altro? Personalmente non giocavo da una partita intera da quasi un mese e quindi comunque rimettermi in careggiata e soprattutto entrare negli schemi del mister è stata una prova abbastanza sufficiente, parlando personalmente. Poi il gol ha concluso in bellezza la giornata e peccato per il palo iniziale, magari sarebbero stati due o magari avrebbero portato i tre punti. Però alla fine è un punto importante contro la capolista e quindi raccogliamolo e vediamo il futuro. Cosa vi siete detto all'interno dello spogliatoio dopo la prestazione di Sorrento anche alla luce di quella che è stata la sconfitta di Cerignola? Nello spogliatoio ci siamo fatti un grande applauso perché dopo aver subito quel gol dopo sette minuti qualsiasi squadra si sarebbe arresa, invece noi tutti ci siamo abbracciati e passo dopo passo abbiamo preso in mano la partita. Non ci siamo mai disuniti, non siamo mai usciti fuori dagli schemi e alla fine con il nostro gioco e con le nostre idee abbiamo trovato il pareggio. Ultima domanda, cosa deve aspettarsi il tifoso del Bitonto dal 2021 Neroverdo? Saranno sei mesi intensi, molte gare ravvicinate. Cosa i tifosi del Bitonto dovranno aspettarsi da questo nuovo anno in arrivo? Sicuramente noi possiamo promettere impegno e attaccamento a questa maglia e a questa società perché alla fine Bitonto viene da una punizione giusto o sbagliata lo può decidere soltanto chi ha dato la sentenza però è una città ferita quindi noi abbiamo un unico obiettivo e un'unica promessa è di cercare di recuperare quella categoria che l'anno scorso ci hanno tolto. Grazie. Grazie. Grazie.